Ho mescolato l'acqua pulita con la farina ed è uscito il mio pane. Questo credo sia un tuo verso, è così? Sì, è un mio verso. Volevo dire esattamente cosa voleva dire per me, parlare in via detto. L'acqua e il pane, che erano i due elementi, che comunque da piccola erano essenziali, perché con l'acqua e il pane, la farina si faceva il pane. Quindi è tutto unisco. Ad esempio, il dialetto, mettendo insieme due parole, riesco esattamente a dire non solo quello che penso, quello che voglio e anche intuire cosa vuole la persona che ho davanti. È difficile da dire, ma è questo. Certo, certo. Allora, dato che è difficile da spiegare, cerchiamo di ascoltarlo a questo punto. Inizialmente io pensavo in dialetto e cercavo le parole in italiane. Poi a un certo punto mi sono detto, non trovavo in italiano quello che volevo dire in dialetto. E così non ho più scritto in italiano e ho continuato a scrivere in dialetto. Grazie.